Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere che vi dà al volo, proprio brevemente, quelle che sono le sue impressioni del nuovo trailer di Batman v Superman Dawn of Justice. È uscito stamattina, mi pare, il secondo trailer che ci mostra un qualcosina di più. E vi vado a dire quelle che sono le mie impressioni, intendiamoci, sul trailer, perché l'ho detto anche riguardando il trailer di Civil War, però qualcuno non l'ha capito, non sto dando impressioni su un film che deve ancora uscire, sto parlando di quello che a me sembra di capire dal trailer. E allora, Batman v Superman è il film di supereroi che sto attendendo di più in assoluto, cioè nel senso più dei vari nuovi film sui personaggi Marvel. Forse adesso è stato superato in classifica dal nuovo Spider-Man che dovranno fare, però diciamo che avevo moltissime aspettative, così come avevo moltissime aspettative di vedere in azione Ben Affleck come Batman, di vedere Gal Gadot nei palmi di Wonder Woman, che l'avevamo proprio a malapena intravista, e di rivedere Henry Cavill come Superman, e mi dimenticavo di Jesse Eisenberg che appunto è l'ex Luthor. Allora, è un trailer che permette a tanti di noi di risparmiarsi tanti soldi, perché dice un po' troppo, forse, non lo so, cioè un dubbio c'era soltanto su se le voci che giravano su un possibile coinvolgimento di Doomsday e di Zod fossero fondate, ecco, adesso lo sappiamo per certo che ci saranno, che ci sarà Doomsday e che sarà ricavato dal cadavere di Zod. Io magari avrei voluto scoprirlo anche un pelino dopo, guardando il film per esempio, però posso capire che, so, vabbè. Non è il trailer che è più spoileroso, ce ne sono stati anche altri, però diciamo che questo proprio detto, eh, che cazzo ancora devo guardare? Cioè sappiamo tutto di questo trailer. Vediamo per la prima volta un pochettino meglio l'interpretazione di Jesse Eisenberg del suo Lex Luthor, che è un Lex Luthor diverso da quello del fumetto, diverso da quello che ci aspettavamo, tutto quello che volete. Ma che comunque a me incuriosisce, perché, non lo so, mi sa di quel giovane rampante, che però non ha limiti etici, morali, che perderà i capelli sicuramente nell'andare avanti con la pellicola. Quasi ricorda l'ex Luthor di Gene Hackman del primo Superman, però vabbè, lì forse è un po' tirato per i capelli. Per il resto cosa dire? Il costume di Batman, quello normale, non quello corazzato, è meno pezzotto di quello che temessi. Cioè, perché praticamente nel film, nei film di Nolan, l'avevano reso un pochettino più paramilitare e avevano fatto soprattutto la cosa molto ingegnosa di dividere il collo dalla testa, in modo che potesse girare il collo, a differenza di tutti i film di Barton e di Schumacher, no? Che aveva un pochettino rotto quella che è la normale linea del collo di Batman, che insomma è dritto, no? E facendo appunto questa divisione che tutti gli esseri umani hanno della faccia e del collo, a meno che non hai il collo di Batista, che è grosso così, no? E invece qua si è ritornati un pochettino indietro. E c'è una micro scena in cui si vede Bruce Wayne, che non è Bruce Wayne, Batman, che gira il collo. E sembra che lo riesca a girare abbastanza agilmente, non è di quella plastica che si vedono le righette. C'è da dire che però c'è anche il rischio della maschera di Michael Keaton. Michael Keaton praticamente aveva questa maschera che doveva essere aderente al viso e poi praticamente lui ci ballava dentro la faccia, dentro la maschera, cioè sembrava molto più grande, no? E qua mi pare si intraveda anche questo effetto. Comunque vabbè, minuzie. Gal Gadot, l'avevamo già detto che non è la Wonder Woman che probabilmente ci aspettavamo, però sembra interessante. Hanno risolto il problema del poco seno facendole un bustino vuoto, più grosso, che sembra che praticamente ci ballino dentro. Il costume di Superman lo sappiamo. Allora, cose che non mi sono piaciute assolutamente, oltre al fatto che praticamente hanno spoilerato tre quarti di film, il discorso dei doppiatori, prima di tutto dei doppiatori, cioè di un doppiatore. Allora, ovvio che non è una critica che vada a fare al film quanto al doppiaggio italiano, che si cerca sempre di mantenere per determinato attore determinato doppiatore. Ok, va bene, ma quando metti un Riccardo Rossi, che ha sempre fatto... Riccardo Rossi ho detto... Sì, non il comico, il doppiatore. Che ha sempre fatto delle voci giovanili, più o meno. Fare la voce di Bruce Wayne Batman, tenuto conto che soprattutto quando Bruce Wayne interpreta Batman, ha una voce modificata, non ha senso. Poi vedi Bruce Wayne con le tempie brizzolate. Cioè, non lo so, ma mi è sembrato proprio brutto. Cioè, posso ancora capirlo quando Rossi doppia Oliver Queen Arrow, visto che si parla di una versione giovane di Freccia Verde. Ma per Bruce Wayne proprio quella voce non ci sta nulla. Non ci sta per niente. Poi vabbè, vediamo, tornando diciamo alle scene, c'è la scena ormai telefonata del futuro distopico in cui Superman ha preso il potere, che probabilmente sarà un sogno di Batman, che va a ricordare un pochettino come atmosfere Superman Red Song, una storia di Mark Millar bellissima, in cui appunto Superman è il dittatore del mondo a comando dell'Unione Sovietica. Diciamo che un pochettino va a ricordare quell'ambientazione, per quanto diciamo che qua è spostata in toni caldi. Cioè, nel senso desertico, a differenza di Red Song, che invece è ambientato praticamente nel gelo quasi polare. Poi, cos'altro volevo dire? Ci sono alcune scelte di montaggio del trailer che non capisco, nel senso, tirano fuori Doomsday, parentesi. A me non sembra granché, anche proprio dal punto di vista della CGI. Mi ha ricordato... Ma neanche, perché quel abominio di l'incredibile Hulk era ancora più carino. Comunque, non lo so, mi sembra un po' pezzotto. Comunque, nella scena in cui sputa fiamme che fa un cono nucleare in cui si vede Bruce Wayne nella Batmobile che fa così, oddio, oddio, che cazzo sta succedendo? E poi praticamente si vede cambio di scena, Wonder Woman che sta parando con lo scudo e dietro Superman che si sta facendo così. Cambio di scena di nuovo, Batman non è più nella Batmobile col fucile in mano e Superman gli dice ma credevo che fosse con te. Ah no, non era con te? Insomma, è naturalmente un montaggio di varie scene però cazzarola, me ne sono accorto come un p... Cioè, non va a cambiare la trama del film però dico cazzo, è un trailer di un minuto e mezzo mi sminchi pure queste cose. Ehm... Boh. Poi la scena finale della Trinità Santa della DC Superman, Batman e Wonder Woman è bellissima ma con un ma. Allora, è vero che Superman... Eh, Superman. Che Batman ha utilizzato in passato armi simili a pistole e a fucili. Anche per esempio nel Batman... nella serie di Batman Arkham quando usa il... quella specie di fucile che lancia scariche elettriche, no? Però come immagine iconica che quella dovrebbe essere un'immagine iconica a me di vedere Batman con un fucile mi sembra un po'... insomma... No? Cioè, no? Almeno per me, no? Batman aborre aborrisce le armi le armi da fuoco quindi, boh, vabbè quella è proprio anche qua una minuzia che però... E l'immagine iconica non dovrebbe essere così. Ultima cosa Henry Cavill non fa nulla o perlomeno le scelte che sono state fatte da Snyder e soci fanno in modo che Clark Kent e Superman si distinguino un pochettino. Lo so, tutti quanti abbiamo detto sta storia che è una cazzata che se uno ha gli occhiali è Clark Kent se non ce li ha è Superman si è fatta dell'ironia becera su questa cosa si sono cercati di trovare miliardi di spiegazioni il fatto che lui vibrasse quando è Superman piuttosto che la sospensione dell'incredulità tutte queste cose qua però diciamo che si cercava un pochettino di cambiare la cosa no? Per esempio Christopher Lee buonanima quando faceva Clark Kent come atteggiamento fisico come voce sembrava veramente un'altra persona ovvio che poi sapevi che era sempre lo stesso però sembravano due persone quasi diverse ce l'ha fatto capire anche Frank Whiteley disegnando il star Superman che disegnando la stessa persona ma in modo diverso come impostazione della fisicità può sembrarti tutta l'altra persona ecco è Henry Cavill quando fa Clark Kent e Superman con gli occhiali so che può sembrare una cosa stupida però è un fatto che mi stona anche perché è un Superman che è andato alla tv in un congresso mi viene in mente sempre il Devil di Bendis quando c'è un qualcuno che colora una foto di Matt Marduk disegnandoci sopra Devil dice cazzo ma sai che comunque queste sono le mie impressioni un pochettino l'hype mi è sceso sono comunque curiosissimo non sono convinto della scelta di regia sempre di Snyder in cui fa questi primopiani ravvicinati come se fosse una telecamera amatoriale che mette a fuoco velocemente mi dà già fastidio in Man of Steel mi dà ancora più fastidio qua nella scena in cui si vede praticamente che discende dal palazzo Doomsday non mi convince però vediamo cosa esce fuori sono comunque curioso per adesso è tutto tanti garigosi show gari show gari show gari